Grazie a tutti di essere qui. Secondo lo studio che abbiamo commissionato in questi anni, che si chiama Lavoro 2025, siamo di fronte ad un cambiamento epocale anche delle forme di lavoro e quindi anche delle loro forme di rappresentanza. Entro il 2025 il 60% dei lavori che conosciamo sarà interessato da trasformazione. Nei Paesi avanzati il 50% di questi lavori sarà creativo, il 20% sarà operaio, il 30% sarà impiegato. Questo farà nascere nuove forme di lavoro e quindi nuove categorie di lavoratori. Rispetto a questo scenario, noi oggi presentiamo un programma sul tema del lavoro e delle pensioni che cerca di scongelare questo Paese da una serie di regole che risalgono anche a 50 anni fa nel mondo del lavoro. Sia chiaro, noi non siamo convinti che si produca lavoro cambiando la disciplina della legislazione che riguarda il lavoro. Il lavoro si produce con gli investimenti, il lavoro si produce con le politiche anche di welfare, il lavoro si produce con un Paese che sburocratizza, con un Paese che investe in determinati settori. Ma la traiettoria storica che noi abbiamo disegnato in questi anni con lo studio Lavoro 2025 ci ha consentito di creare delle domande che abbiamo poi sottoposto ai nostri iscritti e che oggi fornisce delle risposte nel nostro programma sul lavoro. E che va prima di tutto in una direzione, tutelare il lavoratore del domani. Che sarà un lavoratore che avrà sempre più bisogno di rappresentanza. Quindi per noi il lavoratore ha bisogno di essere rappresentato. Ma siccome le categorie cambieranno, le aggregazioni si moltiplicheranno e non possiamo più pensare che il vecchio modello sindacale attuale sia più accettabile. Mi spiego meglio. Oggi il modello sindacale che abbiamo è un modello sindacale che come i partiti nella politica ha deciso di non rappresentare più i lavoratori, ma di rappresentare i propri privilegi e di farsi casta. E lo abbiamo visto con il primo quesito che abbiamo posto su questo tema a cui i nostri iscritti hanno votato ampiamente a favore. Non è più accettabile che ai tavoli sindacali siedano solo alcune sigle perché hanno siglato accordi in passato. Questo è un passaggio fondamentale perché è lo stesso passaggio con cui solo i partiti che avevano partecipato alle elezioni precedenti potevano prendere i rimborsi elettorali e quindi finanziare la campagna elettorale successiva. Sono meccanismi che noi abbiamo visto tanto nella politica quanto nel sindacato. Allo stesso tempo i distacchi sindacali che non riguardavano nulla della materia per cui quel sindacalista era stato eletto hanno rappresentato quello che abbiamo visto nei partiti sono state le varie derive dei dirigenti. Gente non eletta da nessuno che andava a rappresentare il partito in altre materie che neanche gli riguardavano. Ci sono tante assonanze tra il modello sindacale attuale e il modello dei partiti. Entrambi sono responsabili di un congelamento delle condizioni del lavoratore che poi non sono mai delle condizioni di chi lavora bloccate, congelate o arretrano o avanzano. E negli ultimi anni arretrano sempre di più tant'è vero che siamo gli ultimi per produttività da lavoro in Europa. Siamo il fanalino di coda nonostante siamo tra i paesi che lavora più ore di tutti quanti in Europa. Se noi veramente vogliamo invertire la rotta e dare più produttività da lavoro dobbiamo necessariamente operare sui settori di cui abbiamo parlato. Ma uno dei settori che più sta a cuore in questo momento al Movimento 5 Stelle è capire qual è la proiezione storica dei modelli lavorativi che stanno nascendo. E su questo ancora una volta lo studio ci aiuta perché è vero che scompariranno una parte dei lavori che conosciamo ma in quel 50% di lavori creativi che nasceranno ci sono lavori legati al mondo della sostenibilità ambientale delle bonifiche, al mondo dello sviluppo economico tecnologico ci sono tanti nuovi settori in cui nasceranno nuove professioni ma non è che nasceranno da sole questa è una traiettoria storica verso cui sta andando il mondo ma nel DEF di Gentiloni o nelle leggi di bilancio di questi anni io non ho visto nessun investimento in questo settore sono settori che avrebbero bisogno adesso di essere spinti energia, sicurezza del territorio, distesso idrogeologico non con i soliti slogan in questi settori se cominciamo ad investire riusciamo a compensare la sempre più diminuzione la sempre maggiore diminuzione di quelli che sono invece le fasce operaie e impiegatizie che sempre di più si sposteranno altrove o verso i robot o verso i software o verso Cina e India come ci descrive anche il nostro studio sul lavoro 2025 con queste premesse noi possiamo affrontare il futuro dell'Italia con un programma organico che dà risposte a queste domande anche dal punto di vista pensionistico avremo sempre più categorie differenti di lavoro ed è giusto mettere l'accento sui lavori usuranti perché i lavori usuranti saranno una categoria che avrà bisogno di un trattamento di previdenza differente rispetto ad altri lavoratori che non saranno usuranti invece in questi anni che cosa si è fatto? si è andato verso nella tendenza opposta si sono eliminati alcuni o non tutelati più alcuni lavori che prima erano usuranti adesso non lo sono più in generale io penso quando immagino il governo del Movimento 5 Stelle che lavora al tema del lavoro un governo che prima di tutto prova ad eliminare le distorsioni che si sono create in questo mondo in tutti questi anni nel mondo del lavoro dai privilegi sindacali noi non accettiamo che ci siano privilegi nei sindacati addirittura in alcuni casi peggiori che nei partiti e porteremo avanti tutte le azioni legislative e tutte le azioni di moral suation affinché i lavoratori si possano sia aggregare liberamente e contare o contare direttamente partecipando sempre di più alla vita aziendale pensate a quello che sta succedendo in Alitalia in questo momento i sindacati hanno avuto il coraggio di sottoporre ai lavoratori un referendum in cui si dice o votate questo accordo e non si risolvono i problemi di Alitalia oppure vi licenziamo tutti perché mettiamo in liquidazione l'azienda in questo momento quell'accordo che è stato firmato è un accordo viziato dalle solite distorsioni di cui parliamo nel nostro programma chi si siede ai tavoli di trattativa chi rappresenta i sindacati a quei tavoli di trattativa chi finanzia i sindacati in questo paese i sindacati, lo diceva Claudio prima li dovrebbero finanziare i tesserati ma non dovrebbero finanziare le pensioni d'oro dei sindacalisti o i mega stipendi dei sindacalisti dovrebbero finanziare il funzionamento di un sindacato e così via i caffi patronati e anche tutti i fondi e i vari enti collaterali che creano per cercare insieme all'azienda di trovare un modo per andare a braccetto e poi le porte girevoli quanti sindacalisti entrano nei consigli d'amministrazione dopo o quanti sindacalisti poi entrano in politica quindi abbiamo una schiera che magari prende anche la pensione d'oro allora noi stiamo lavorando ormai da dieci anni come Movimento 5 Stelle per buttare giù quelli che sono i privilegi della politica e dei partiti dovremo lavorare anche per tutelare i lavoratori a mettere mano ai privilegi di chi li rappresenta e poi infine un'idea di paese diversa un'idea di paese in cui dobbiamo cominciare a pensare a quali siano le grandi risorse su cui investire allora sempre la nostra proiezione al 2025 ci dice che l'Italia sarà il paese che con i gruppi industriali di eccellenza avrà capacità di attrarre più investimenti di tutti gli altri paesi d'Europa perché ha dei gruppi industriali, imprenditoriali di eccellenza su alcuni settori che fanno parte proprio del mondo creativo e che fanno parte di quel mondo che può attrarre investimenti più di tanti altri artigianato ma anche agricoltura ma anche turismo ma anche design allora quel settore lì noi dobbiamo cominciare a spingerlo da adesso e lo dobbiamo fare con due politiche una è quella degli investimenti che danno più sviluppo a questo settore quindi ricerca e infrastrutture e dall'altro permettere in una fase di transizione tale in cui da molti mondi lavorativi si entrerà in questi mondi creativi allo Stato di dare un cuscinetto a chi perde un lavoro dai mondi lavorativi che si stanno estinguendo di potersi reinserire in un nuovo mondo del lavoro attraverso come il reddito di cittadinanza che è uno strumento di conversione delle competenze professionali noi vogliamo formare come governo 5 stelle coloro che perdono il lavoro da un mondo del lavoro per entrare in un altro mondo del lavoro questa è una traiettoria storica per cui grazie a Claudio Cominardi, Davide Tripiedi, Tiziana Ciprini che ci hanno lavorato per due anni noi oggi abbiamo la possibilità di conoscere ma conoscerla non significa che arriverà da sola e vedere un DEF come quello di Padoan e Gentiloni che tira a campare fino alla manovra di bilancio lacrime e sangue che poi arriverà a dicembre è un'ulteriore occasione mancata che ci fa pensare che dobbiamo andare alle elezioni il prima possibile e per andare alle elezioni esiste una sola soluzione è inutile che mettono altra carne a cuocere con altre leggi elettorali esiste una sola soluzione per andare a votare il prima possibile prendere la legge della Camera, metterla al Senato e andare a votare altrimenti possiamo pensare come Paese di andare fino alla legge di bilancio di dicembre dove dovranno trovare 30 miliardi e sarà un'altra manovra lacrime e sangue poi magari faranno finta di litigare tra di loro come stanno facendo sulla scandalosa vicenda ANAC hanno tolto i poteri all'ANAC per il controllo sugli appalti lo hanno tolto quelli del Governo e alcuni senatori dello stesso partito del Governo fingono di litigare con il Governo dicendo dovete reintrodurre quella norma è chiaro che un partito che è stato coinvolto in scandali come quello di Trivellopoli, come quello di Mafia Capitale non potrà mai fare regole anticorruzione certe e quando le fa per sbaglio poi dopo le elimina come stiamo vedendo in questo momento e la corruzione è l'altro grande tema perché tutto questo, tutto quello che diciamo sul lavoro il programma del lavoro ha bisogno anche di un'altra cosa la fiducia di chi lavora in questo Paese onestamente nello Stato e per avere fiducia nello Stato deve avere uno Stato che lotta veramente contro la corruzione e sono anni che noi parliamo di temi concreti sulla corruzione agenti provocatori basta con gli appalti dati senza gara cominciamo a fare le gare abbassiamo il costo degli appalti se facciamo così cominciamo a investire anche più soldi nei settori che servono per creare nuovo lavoro questi sono solo alcuni punti io non voglio dilungarmi ma quello che ci tengo a dire sul tema del programma sul lavoro è che ancora una volta nelle ultime 2-3 settimane il Movimento 5 Stelle mette sulla piatto della discussione politica una serie di temi per i quali gli altri non si sono mai espressi non ci sono delle posizioni sull'orario lavorativo dalla maggioranza dei partiti sono tutti partiti che tendono a mantenere lo status quo nei loro programmi che non ci provano mai a mettere in discussione qualche principio per provare a cambiare la qualità produttiva e la qualità delle condizioni di lavoro in questo paese lo stesso vale su tutti gli altri settori noi stiamo introducendo delle innovazioni in tutti i settori ne facciamo discutere anche tutto l'arco politico italiano molti magari ci attaccano altri condividono però l'unica cosa che non vogliamo fare è far stare questo paese fermo nell'immobilismo in cui ci hanno condannato i partiti negli ultimi 20-30 anni grazie 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 a tutti